dell'ultima tappa della decima edizione povei cesenatico tappa che parte dal balogna dalla dotta fino a cesenatico dove si concluderà la decima edizione siamo in attesa che i ciclisti incominciano a muoversi che mi fa sentire che mi fa sentire l'informazione C'è qui è tutto, dove in cazzo chiesa, è stato, vipinacci, vipinacci, vipinacci. Vipinacci, 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 vipinacci. Vipinacci, 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 vipinacci. Vipinacci, vipinacci. Antonio è sempre emozionante fare la rumpa di cesare Buongiorno 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 tutto bene? tutto bene, tutto ok chi altro c'è dietro? c'è un altro vai no Marcello sei sempre un grande un bucciatore telecamera sei tu da chiudi la fila? no no, ci sono ancora molto ti ho messo Marcello guarda dimmi che troppo tanto c'è dietro via via grazie via 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 ciao Marcello buongiorno siamo arrivati alla ultima tappa finalmente perché finalmente mi chiede perché finalmente questa natura mi sento c'è smart qui c'è dietro che c'è dietro ciao ciao come va? qua c'è l'ultimo ferrara 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 qui e qui ci Grazie a tutti. Siamo a Ferrara davanti alla porta Paolina. Grazie a tutti.